Sette casi positivi a Lanciano, una cinquantina di persone in quarantena, questi dati relativi all'epidemia di coronavirus in città. All'ospedale Renzetti, dopo il caso positivo della 92enne di Casoli, ricoverata in ortopedia per la frattura del femore, poi trasferita a Chieti, dove deceduta, il reparto è stato chiuso e sottoposto ad operazioni di sanificazione. Un'altra anziana di Paglieta, ricoverata ad ortopedia e rimasta contagiata a sua volta, in seguito deceduta. Positivi al test sono risultati complessivamente 9 pazienti su 12, compresi due decessi, gli altri tre sono invece risultati negativi. E c'è attesa per i risultati ufficiali dei tamponi eseguiti sul personale sanitario, ma si temono contagi tra medici e infermieri. Sulla mancanza di dispositivi di sicurezza interviene l'Unione Sindacale di Base, che denuncia il fatto in procura con due esposti presentati a Lanciano e a Chieti. Nel merino del sindacato c'è la ASL provinciale, insieme alle altre ditte esterne che operano per gli ospedali. Il delegato OSB Luigi Iasci. Crediamo che, vista la gravità della situazione nella quale ci troviamo, e soprattutto la diffusione velocissima che ha questo virus, dobbiamo permettere agli operatori impiegati in prima linea a combattere questa grave emergenza, di lavorare in sicurezza, prima di tutto per loro, e per il ruolo che stanno svolgendo così delicato nella fase in cui ci troviamo, ma soprattutto per evitare che possa essere il personale sanitario stesso a trovarsi nella situazione di divenire a tutti gli effetti un vettore dell'epidemia. I lavoratori sappiamo che sono impiegati negli ospedali, ma quando escono dagli ospedali hanno delle famiglie, delle comunità dalle quali provengono, e quindi la contaminazione del personale sanitario sarebbe disastrosa per l'esposizione di altri e tanti soggetti alla epidemia. Per cui abbiamo deciso di attuare questa azione forte, ma necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza nei nostri ospedali e per evitare che si possa arrivare a un numero veramente spaventoso di persone contagiate.